L'Avis di Lucera informa che sabato 18 settembre dalle 8.30 ci saranno donazioni straordinarie di sangue in autoemoteca presso i locali dell'ex hub vaccinale alle spalle della scuola Lombardo Radice in zona Portafoggia. Per prenotare la propria donazione è obbligatorio contattare l'Avis di Lucera che indicherà l'orario disponibile. Si ricorda a tutti coloro i quali sono stati vaccinati contro il Covid-19 che non possono donare nelle 48 ore successive alla sua amministrazione se non sono comparsi sintomi, oppure 7 giorni successivi all'inoculazione se sono comparsi sintomi post-vaccinali. Inoltre l'Avis di Lucera ricorda che per donare bisogna essere in buona salute e attendere 14 giorni prima di andare a donare se si è stati esposti al rischio di infezione da coronavirus.